Buonasera, bentornati a un'altra puntata del nostro Spazio Notizia. Buonasera, parliamo ancora di questo weekend del 15 e 16 settembre, che è veramente ricco di eventi. Questa sera qui con me Elena Carnero. Buonasera Elena. Elena fa parte della fondazione Casa Laiolo. Intanto con lei scopriremo che cos'è Casa Laiolo, ma soprattutto andremo a scoprire in questi due giorni, 15 e 16 settembre, che cosa succede a Casa Laiolo. Intanto Casa Laiolo, Pio Sasco, nel bellissimo, diciamolo subito, borgo antico, di cosa si tratta? Il borgo di San Vito, sì. Casa Laiolo è una villa, una villa antica, una dimora storica, di metà del Settecento, perlomeno per come è configurata adesso. Ha un giardino storico molto antico, delizioso, segnalato dal FAI. È un giardino all'italiana, ma che in parte accoglie anche un giardino all'inglese schermato da una parete di tassi antichi. Quindi una dimora storica fa parte dell'Associazione Dimora Storica Italiana, una dimora storica privata, che però da un paio d'anni tramite questa fondazione ha deciso di aprire al pubblico e di organizzare al proprio interno eventi, manifestazioni, proprio per entrare nel territorio nel quale è inserita e che la ospita. Infatti mi diceva due obiettivi, quelli della fondazione Casa Laiolo e ricordo anche che Casa Laiolo fa parte da secoli di una famiglia che la utilizza ancora oggi come seconda casa. Due obiettivi, il primo la gestione e la manutenzione, anche immagino, della casa stessa e il secondo la valorizzazione. E in questo senso ovviamente andiamo a questo 15 e 16 di settembre. Poi le chiederò nello specifico magari di raccontarmi un po' proprio cosa succede in una data o nell'altra, ma intanto mi piace ricordare che è la terza data di una rassegna annuale. Sì, la festa degli orti, abbiamo pensato che non fosse opportuno snaturare l'animo di questa casa, è una casa che ha comunque una vocazione agricola, era una dimora sinobiliare ma di campagna e quindi festa degli orti è il tema che abbiamo dato a questa rassegna annuale. La prima data era dedicata ai legumi, la seconda data agli aromi, questa weekend, il 15 e il 16 di settembre, l'abbiamo dedicata ai frutti antichi, con un'attenzione particolare alle biodiversità. Quindi varie tipologie di frutta, ma in realtà varie tipologie davvero per ogni singola frutta. Per conoscere proprio meglio... Esatto, soprattutto la storicità di alcuni frutti, di alcune varietà che sono magari in quel giardino da veramente da secoli. Si possono fare tantissime cose in questi due giorni a Casa Laiolo. Io intanto ricordo che ci sono quattro mostre. Sì. Sono quattro mostre, le leggo perché altrimenti magari dico delle cose che non sono corrette, ma una è pomologica, una è sulle uve piemontesi, perché poi ovviamente noi lì andiamo a parare giustamente, una sui campioni di frutti in ceroplastica, che questa già deve essere una cosa interessante, particolare. Allora, è in virtù del fatto che ospite d'onore di queste due giorni è il Museo della Frutta di Torino. Museo che esiste grazie al lavoro di Francesco Garnier Valletti, colui che ha un po' inventato la tecnica appunto di ceroplastica per la modellazione di frutti, esattamente come sono in natura, destinati soprattutto ad un obiettivo di didattica. Quindi esistono veramente migliaia e migliaia di frutti riprodotti in ceroplastica. Ospitiamo appunto la direttrice di questo museo che ci racconta così come è nato e quali sono i suoi obiettivi. Che è la dottoressa Costanzo, che fa anche una conferenza proprio giusta. Esatto, esatto. E proporremo dei laboratori sia per i bambini che per gli adulti proprio di ceroplastica, di provare a ricostruire della frutta proprio grazie al lavoro di un ceroplasta moderno che Davide Furno e che ci aiuterà in questo compito. Intanto diciamo che la quarta mostra è poi quella delle piante cibo del mondo. 15 agronomi innovatori europei dal 500 ad oggi. Sono mi sembra 16 pannelli. Sì, sì, sì. Cerchiamo di fare, di accostare insomma gli aspetti ludici anche degli aspetti così formativi, di alto livello direi, divulgativi. Ci saranno dei docenti universitari che ci aiuteranno ad approfondire il tema sia della frutta che di altri aspetti legati soprattutto ai giardini, alla storia dei giardini. D'altra parte insomma la casa è totalmente circondata da un meraviglioso giardino che davvero trasporta in una dimensione diversa da quella a cui siamo abituati quotidianamente. Quindi già solo la visita al giardino vale la pena. Lei l'ha accennato prima. Ci saranno in questi due giorni delle attività dedicate proprio ai bambini. Quindi chi vuole venire anche con i bambini? Assolutamente sì, oltretutto i bambini entrano senza biglietto. Ah sì, diciamolo, c'è un piccolo costo d'ingresso. Sì, sì, è un biglietto popolare perché insomma per dare valore alle cose che si fanno. Insomma ci sembrava giusto per quanto per noi sia un'attività no profit. I bambini avranno modo di provare anche loro a pacioccare con la cera per costruire i propri frutti, ma potranno costruire anche del cibo per gli uccelli, del cibo invernale per gli uccelli. Potranno lavorare e scoprire la propria araldica grazie ad un laboratorio di araldica, quindi un magico bestiario, quindi prendendo spunto dai laioli. Ecco, casa laiolo perché il laiolo in piemontese è il laiol che è il ramarro. Quindi questo è un po' in onore allo stema della casa. E poi insomma potranno usufruire di una merenda ovviamente alla base di frutta, con esperti che racconteranno loro tutti i vari benefici di un frutto piuttosto che dell'altro. Ma anche gli adulti potranno usufruire ovviamente della parte gastronomica, diciamo. Sì, abbiamo tutta una serie di aperitivi fruttati, che quindi sia da mangiare ma anche da assaporare. Proveremo a torchiare delle mele per estrarne il succo e provarlo insieme. Quindi cercheremo di rimettere insieme una serie di pratiche anche così un po' più antiche che valorizzano il mondo della frutta. In più, in collaborazione con i due ristoranti del Borgo, per il sabato sera abbiamo organizzato delle cene a tema frutta naturalmente, ma in più con degli esperti che durante la cena racconteranno e spiegheranno tutti i valori anche nutrizionali della frutta. Quindi degustazioni, conferenze, attività per bambini, ma non solo. Ha già accennato appunto che c'è la possibilità di una cena il sabato sera, ma oltre a questo anche degli aperitivi letterari. Sì, con presentazione di libri sempre ovviamente inerenti al tema dei giardini e della frutta, in particolare facciamo un omaggio ai fratelli Roda, che erano i giardinieri di Carlo Alberto. Con gli autori però, le presentazioni con gli autori. Con, sì, con chi ha curato l'introduzione e la prefazione al testo. Altra cosa, ospiteremo uno spettacolo teatrale, il Giardiniere del Re, in collaborazione con la Casa del Teatro Ragazzi di Torino. Insomma, una bella occasione, questa è una rassegna organizzata insieme alla città di Pio Sasco, il borgo risuona proprio per coinvolgere tutto il borgo in questo weekend. Anche questo sicuramente è un motivo così di attrazione. Un'altra cosa, non so se l'abbiamo già detto, non lo ricordo sinceramente, ma mi aveva colpito quando ho letto il programma e la visita al frutteto. Sì. Perché immagino che comunque casa l'aiolo abbia. Sì, ha un bellissimo orto, è attaccato all'orto a questo frutteto dove Carlo Pagani, questo insomma maestro giardiniere, ci aiuterà a conoscere meglio le piante da frutta, individuare le eventuali patologie e darci una mano anche a capire per le potature. Quindi sempre più vicini alla natura. Sì. Facilissimo. C'è tutto il programma, più di così. Ritorniamo un attimo a quello che abbiamo detto a inizio della nostra puntata, quando abbiamo parlato degli obiettivi di casa l'aiolo. Sì. Soprattutto dal punto di vista gestionale, io immagino che sia potente il lavoro. Sì, è piuttosto oneroso, appunto noi facciamo parte di questa associazione di dimore storiche italiane che mette insieme i proprietari delle dimore storiche, sono dimore che spesso e volentieri creano più problemi che piaceri, che hanno ovviamente il tempo sulle loro spalle e quindi i lavori di manutenzione sono quotidiani. Siete in tanti a lavorare per la fondazione? Mai abbastanza. Facciamo un appello, signora, in questo senso. C'è un gruppetto in questo momento, ognuno con le proprie competenze, ci sono 4 o 5 persone che ruotano attorno alla casa e che cercano di portarla avanti nel miglior dei modi. E poi c'è chi si occupa appunto di programmazione, in questo insomma. Anche la proprietà, direi che è una dei, ma non l'unica. La proprietà sicuramente ha delle visioni molto lungimiranti e in questo siamo riusciti a preparare dei progetti interessanti che sono stati anche sostenuti da delle fondazioni bancarie. Questo ci dà ovviamente un po' più di respiro e di sollievo per poter portare avanti delle attività che sono come questa, per esempio. Esatto. Quindi noi ricordiamo... La compagnia di San Paolo ovviamente in primis è quella che sostiene tutto. È sempre molto presente la compagnia di San Paolo sul territorio, fortunatamente. Sì, fortunatamente. Da un punto di vista storico, artistico, sostiene, direi, dei bei progetti. Grande, Presidente. E a questo punto io ringrazio Elena Carnero per essere stata qua con noi. Vi ricordo Fondazione Casa Laiolo, ricordi lei invece l'evento del 15 e del 16. Sì, la festa degli orti dedicata ai frutti antichi, sabato 15 e domenica 16 settembre, dalle 10 del mattino fino a sera. Le dimore piemontesi sono un patrimonio importantissimo. Casa Laiolo è una di queste ed è tradizione che lega anche comunque a progetti futuri. Io veramente vi invito ad andare il 15 e il 16 di settembre a visitarla, ma non solo. Quindi c'è anche il sito casalaiolo.it, potete anche andare a sbirciare tutte quelle che sono le cose che sicuramente succederanno nel prossimo periodo. Grazie ancora Elena di essere stata qua con noi e grazie a voi per averci seguito. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.